Indagini di procura e guardia di finanza in corso a Firenze per presunte truffe ed esercizio abusivo della professione di odontoiatra in seguito ad alcune decine di denunce fatte da pazienti che tra febbraio e settembre 2018 si sono rivolti alla catena di studi dentistici in Plantomat con sedi anche a Milano e Civitavecchia perché richiamati dai prezzi molto bassi su impianti di solito molto costosi. Il caso venne sollevato da un servizio di striscia alla notizia ma oggi il quotidiano La Nazione rende anche noto che l'inchiesta di procura e guardia di finanza ipotizza che nella struttura che adesso è chiusa abbiano operato dentisti senza titolo abilitativo. Molti pazienti che si erano rivolti alla catena dentistica hanno denunciato di aver acceso su consiglio della stessa struttura un prestito da una società finanziaria collegata ma poi di non aver ricevuto le cure odontoiatriche attese. Nelle denunce si parla di appuntamenti saltati, dentisti spariti dopo una o due sedute e lavori mai iniziati rimasti incompleti o con problemi causati da materiali scadenti. I pazienti avevano cominciato a pagare le rate dei prestiti ma quando hanno compreso di essere stati abbandonati hanno deciso di fare denuncia alla Guardia di Finanza.